brand journalism brand journalism a cura di lorenzo zacchetti buonasera e bentornati a una nuova puntata di brand journalism abbiamo con noi francesca caon giornalista direttrice del mensile luxury e da poco autrice di un libro che si chiama i dieci comandamenti delle pr il suo primo libro e quindi comincerei proprio da qui dandole il benvenuto e chiedendole come mai l'esigenza di pubblicare questo primo lavoro ciao lorenzo e grazie grazie a tutti buongiorno l'esigenza è nata nella mia testa già da un po di anni e poi questo libro in realtà è venuto alla luce in un periodo difficile per tutti come quello del 2020 in particolare nel primo lockdown quindi eravamo tutti chiusi con mille interrogativi però avevamo anche tanto tempo a disposizione probabilmente più tempo che potevamo mai immaginare di avere quindi io mi sono raccolta in quel dato momento e appunto ho scritto questo libro che è una sorta di guida di bussola per orientarsi in questo mondo che è appunto il mondo delle pubbliche relazioni che in italia sono sono fortemente ancora travisate e confuse perché a differenza dell'america che è il paese poi dove sono nate ebbene in italia sono spesso confuse no con il pr della discoteca tante volte lo si identifica no con il colui che distribuisce i flyers dei locali notturni oppure esco e vado a fare pr come per dire esco e vado a conoscere la gente giusta no ebbene invece le pubbliche relazioni riguardano un abito serissimo che è proprio il mondo del giornalismo quindi della notizia della notiziabilità ecco tu che sei anche fondatrice di un'agenzia di pr che porta al tuo nome e quindi hai sviluppato queste tecniche che consigli ci dai oppure come ritieni che sia modificata la tecnica delle pr a causa della pandemia cosa è cambiato da questo punto di vista ci sono degli errori che possiamo dire fisiologici imprevedibili e quindi anche incontrollabili però ci sono anche degli errori che sono se vogliamo anche un po' grossolani fastidiosi soprattutto con l'avvento del digitale dell'online e quindi anche dei social network spesso possiamo vedere una comunicazione spesso aggressiva poco umile il pensare che i giornalisti siano al nostro servizio oppure non tenere in considerazione per esempio quelle che sono le opinioni dei consumatori dei nostri lettori del nostro pubblico e dei giornalisti stessi quindi ecco ho voluto raccogliere effettivamente anche degli errori di grandi cioè gli errori possono capitare ai profani ma anche ai grandi soprattutto quando siamo esposti alle pubbliche relazioni perché le pubbliche relazioni sono il segmento più delicato della comunicazione perché ci andiamo a disporre no sotto i riflettori quindi insomma andiamo a disporci appunto attraverso interviste in programmi televisivi radiofonici riviste e via dicendo e quindi ci sono degli esempi di grandi grandi nomi anche delle imprenditorie magari con 100 anni di storia fatturati miliardari e poi magari uno scivolone no con una frase di troppo ebbene si è visto proprio vacillare la reputazione del del marchio e sono quindi dovuti incorrere a specialisti delle pubbliche relazioni per esanare la situazione e riguadagnare la fiducia dei loro consumatori facciamo un esempio giusto per capire come anche una grossa azienda possa fare degli errori grossolani ma guarda lorenzo guido guido barilla in 2013 il povero guido barilla ai microfoni della zanzara si lasciò sfuggire no una brutta frase un po indelicata e questo devo dire che fu terribile nel senso che poi dovete partire proprio per una turna immediatica per scusarsi e per recuperare la fiducia dei suoi consumatori tant'è vero che si appoggiò comunque sia ad un'agenzia di ufficio stampa quindi delle specialisti di pubbliche relazioni che però riuscino non soltanto appunto a ristabilizzare la situazione un po vacillante ma addirittura migliorare di tantissimo l'immagine del marchio quindi questo potrebbe essere un ottimo esempio sicuramente anche perché insomma è proprio ormai diventato un caso di studio con la infelice comunicazione che per un solo episodio è costato molto a un'azienda peraltro molto importante che poi ha ben rimediato a proposito di brand importanti un altro brand molto famoso nel mondo della musica quello di david bowie sono da poco passati i cinque anni dalla sua scomparsa per cui lo ricordiamo come una delle canzoni forse meno celebrate ma secondo me più belle strangers when we meet rieccoci in studio con brand journalism e con francesca caon abbiamo parlato prima della pausa di un famosissimo epic fail nel mondo della comunicazione come è possibile invece costruire una narrazione positiva intorno a un brand ma io mi sono innamorata ancora di più di questa professione devo dire vivendola a tutti gli effetti durante un periodo di crisi come quello che che stiamo vivendo devo dire che tutti i clienti della mia agenzia non hanno mai smesso di investire in nelle pubbliche relazioni anche magari con i siti produttivi fermi come nel primo lockdown durissimo il più duro di tutti perché avevano capito che essere sempre sulla cresta dell'onda non faceva altro che permettere poi all'utente finale al cliente di sceglierli prima tra tutti e quindi è chiaro che in un mondo globalizzato in un mare magnum di offerta e di concorrenti è chiaro che comunicare non è un optional lo spiego bene nel nel mio libro per cui ecco scegliere la modalità giusta la costanza è assolutamente importante essere comunque anche sempre unici cercare appunto un un qualcosa di differenziante poi adesso bisogna anche dire con l'avvento dell'online e io devo dire che forse proprio adesso abbiamo capito ancora di più che c'è bisogno di andare verso sempre più l'online rispetto all'offline è chiaro che c'è più bisogno di informazione cioè se prima con il cartaccio quelli erano gli spazi da riempire oggi con l'online è la barriera dell'informazione è assolutamente crollata quindi c'è bisogno di tanti tanti contenuti e soprattutto forse noi abbiamo ancora più responsabilità nel veicolare i giusti contenuti quindi stando attenti appunto a non veicolare notizie infondate fake news e via dicendo il tuo libro si chiama appunto i dieci comandamenti delle pr partiamo da quello che è il più importante secondo te qual è il primissimo consiglio che daresti a chi si approccia a questo settore ma forse i primi due possono sembrare banali però racchiudono proprio la chiave delle pubbliche relazioni cioè appunto comunicare non è un optional e poi agire sulla percezione perché la percezione è appunto molto importante nelle pubbliche relazioni fu Wusniak che insieme a Steve Jobs sapete bene insomma di che marchio sto parlando raccontò che per esempio i due ragazzi che crearono questo marchio in un garage questa questa idea evocativa ma vincente comunque vendeva no rappresentava il sogno americano era non era altro che la creazione di 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 era un'idea di un'agenzia di pubbliche relazioni quindi vedete appunto come il raccontare in un certo modo agisce assolutamente sul potere percettivo poi che che si vuole costruire quindi ecco questo assolutamente e poi essere sinceri delle volte quando mi si presentano come massimo esperto io chiedo sempre se esperto non sia il cognome cioè cerchiamo davvero di trovare in noi un po comunque di 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 umiltà perché ripaga sempre e poi non è vero che con le pubbliche relazioni è importante esserci ovunque no cioè l'importante che se ne parli assolutamente no anzi provocare un po con il mistero forse è ancora più più efficace quindi profilare bene l'entità mediatica che sposino il nostro messaggio i nostri valori ecco questa cosa che dici di essere sinceri è come dire un po incontro intuitiva rispetto all'idea che molte persone da fuori possono avere di questa professione perché in genere si guarda il guru della comunicazione come appunto qualcuno che in un certo senso mistifica un po la realtà l'altera e come dire passa un messaggio che poi in realtà non è quello reale invece l'autenticità mi pare di poter capire da quello che ci dici è fondamentale io ci credo moltissimo in questo ed è poi anche il modo superandi che ho nel mio lavoro penso che ripaghi tantissimo e anche perché si ottiene ancora più autorevolezza io credo molto nella mentalità giornalistica cioè non è detto che per fare questa per svolgere questa professione poi lo si debba essere per forza a meno che non si parli appunto di entità di amministrazione pubblica di istituzioni pubbliche però la mentalità giornalistica sì che conta molto quindi l'autenticità e il constatare il verificare le fonti e fare un comunque un lavoro giornalistico è importante siamo i tramiti siamo i tramiti poi tra appunto le aziende e i media per cui abbiamo una grande grande responsabilità sono molto d'accordo con questo abbiamo siamo arrivati quindi al momento della seconda pausa musicale che è un classico di blondi art of glass però in una versione speciale cantata da miley cyrus era art of glass di blondi in una versione speciale particolare cantata da miley cyrus torniamo con francesca caon a parlare del suo libro i dieci comandamenti delle pr e appunto essendo proprio un vero proprio decallogo io andrei avanti a esplorare insomma questi comandamenti ne abbiamo forse un po accennato prima ma appunto un punto fondamentale che tu poni è la percezione realtà come possiamo spiegarlo questo a chi appunto si sta approcciando questo settore ma allora e la percezione poi la possiamo identificare anche soprattutto con i nuovi mezzi di comunicazione che poi sono orientati soprattutto più sull'online anche queste nuove figure che sono nate come l'influencer marketing no faccio un esempio fra tutti che è il più conosciuto la nostra chiara ferrani che da diavoletto 87 diventa un'imprenditrice da 20 milioni di euro bene che fattura appunto 20 milioni di euro e non solo perché più di 20 milioni di follower è chiaro che diventa un vero e proprio media no e se pensiamo che un programma in prima serata nazionale fa due milioni e mezzo di spettatori e sanremo ne fa 11 milioni è chiaro che capiamo la portata che può avere un personaggio mediatico simile per cui ecco comunicare mantenendo un l'autorevolezza e mantenendo la propria autenticità ma nel giusto modo senza incappare appunto in errori epocali come poi nel libro potrete vedere potrete leggere è assolutamente molto molto importante e poi sì creare delle storie che siano ispirazionali che diano speranza anche secondo me è molto molto importante c'è un altro punto particolare che è quello che tu metti al punto 6 del tuo decalogo provocate con il mistero anche questo se vogliamo può essere un pochino contro intuitivo nel senso che più che nascondere un prodotto una persona o quello che stiamo promuovendo in genere si tende a esporlo talvolta anche a sovra esporlo invece una buona tecnica può essere anche quella appunto di avere un po' di mistero assolutamente sì soprattutto con le pubbliche relazioni selezionare quali sono i media giusti dove veicolare il proprio messaggio aziendale ma anche un personaggio stesso insomma è veramente molto importante ricordiamoci che sempre in america dove sono nate le pubbliche relazioni ma nessuno dal politico all'imprenditore al personaggio dello spettacolo del cinema la celebrità si muove fa un passo senza aver consultato una pr ancora più di un avvocato quindi davvero in italia c'è ancora un po' meno questo questa concezione diciamo del pr però però è molto molto importante sicuramente gestire la propria identità come davvero un brand stesso per cui fare le giuste valutazioni su dove apparire è sicuramente una chiave di successo le pubbliche relazioni ricordiamoci sono un vero e proprio campo di battaglia cioè si determina davvero il successo il fallimento di un marchio per cui è veramente molto molto importante fare i passi giusti per esempio nella scelta di un media quali sono gli elementi da tenere in considerazione ma a mio avviso sicuramente i messaggi che vengono condivisi e poi soprattutto se parliamo di media generalisti o media che sono specializzati in qualcosa profilarli bene nel senso che se dobbiamo veicolare dei contenuti sportivi di certo sceglieremo dei media che siano profilati e sul tema però ecco valutando anche molto bene che tipologia di engagement poi comunque fanno questi determinati media è chiaro che per fare il nostro lavoro si scelgono sempre media di prima fascia per puntare soprattutto sull'autorevolezza cioè il nostro è un lavoro fondato su quello non sul fare proprio un lavoro di marketing perché perché puntiamo sulla notiziabilità non sul vendere un qualcosa le pubbliche relazioni sono l'antitesi della pubblicità per questo parlo anche molto di mentalità giornalistica perché al di là poi del prodotto del servizio che si vuole vendere cerchiamo di individuare l'angolo più notiziabile per raggiungere poi anche l'ascoltatore o il lettore più poi allergico alla pubblicità in fondo lo siamo un po tutti parliamoci chiaro e ciò che ci rende appetibile un qualcosa ciò che ci rimane alla mente è sicuramente la notizia l'informazione certo e infatti non casualmente un altro comandamento che metti nel tuo decalogo è vietato lo spam e io devo dire in questo vedendo dal punto di vista del giornalista che ne riceve tanto non posso che esserti grato di questo perché in effetti si tende sempre un po' a esagerare nella come dire neanche nel comprensibile tentativo di dare la massima visibilità possibile a quello che si sta promuovendo però insomma l'effetto contrario può anche essere molto negativo molto negativo io sono ufficio stampo sono una pr e ma dirigo un mensile che e quindi insomma vedo entrambe le cose insomma delle volte ci sono degli uffici stampa quindi dei colleghi che magari ti inviano dei comunicati stampa tramite whatsapp credo che sia una cosa terribile uno degli errori insomma davvero ma di forse attitudinale cioè in primo luogo siamo delle persone che devono rispettare gli altri quindi ho voluto dedicare un capitolo intero anche per raccontare qual è comunque un organigramma redazionale quali sono poi anche i ruoli no che bisogna rispettare i giornalisti poi inoltre hanno un codice deontologico per cui prima lo si afferra no questo questo linguaggio del giornalista e prima si riesce anche ad empatizzare con loro per cui ecco penso sia veramente molto utile perché non si è mai non siamo mai avuto modo ecco di vedere un po anche così entrare appunto in empatia con il giornalista questo libro lo fa fa entrambe le cose quindi entra in empatia sia con la nostra professione del pr sia anche con il giornalista appunto l'errore quindi dietro l'angolo però come spiega appunto nel tuo decalogo bisogna anche saperlo gestire quindi sapere imparare proviamo a fare un esempio di come fare questa cosa che non è semplicissima ma allora sì gli errori sono ripeto sono fisiologici delle volte perché l'informazione va velocissima per cui forse per quello dico che nel segmento della comunicazione più difficile più delicata da imparare ogni giorno si impara ancora ogni giorno si sbaglia ancora sicuramente le tre caratteristiche chiave per svolgere bene questo questa professione sono differenziarsi sono le modalità che sono appunto la costanza quindi evitare l'antispam però credere in prima persona in quello che stiamo veicolando cioè quando proponiamo dei progetti editoriali che riguardano poi un determinato ambito crederci veramente fortemente perché siamo con il linguaggio persuasivo appunto dobbiamo entrare e far innamorare i media di comunicazione i giornalisti che poi diffonderanno loro stessi le nostre notizie i nostri i nostri progetti appunto editoriali quindi queste tre caratteristiche credo siano veramente molto importanti abbiamo affrontato quindi tutti i punti del decalogo tranne uno che è l'ultimo alimentate la controversia che è molto interessante però lascio alla curiosità del lettore perché il nostro tempo è finito e soprattutto perché vi consiglio di acquistare i dieci comandamenti delle pr edito da roi edizioni l'autrice francesca caon che è stata con noi grazie mille della tua compagnia grazie di cuore a voi davvero grazie noi vi lasciamo a pane al pane brand journalism torna martedì prossimo brand journalism brand journalism a cura di lorenzo zacchetti som dire kod un po' un po' Grazie a tutti.